No 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 Tutto pronto Eccole Porsche Per la finale Terzo e quarto posto Sceso in pista Con il numero 46 Di Brea Bianca Fattini Controposto al numero 23 Comandini Forse ha pagato anche un po' troppo questa sua aggressività Ha avuto non po' più problemi nel semifinali Siliano Fantini Classe 80 Grazie Grazie. 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 Grazie.